La stoppata di Goss, ma il pallone torna nelle mani Metaworkis che sbaglia il rimbalzo di Julian Stone che spinge il contropiede dando a Thomas Ress, in chioda la schiacciata Thomas Ress. Primi due punti per l'ex capitano in Siena e finalmente torna a segnare l'Umana Reier. Da parte del numero 14 dell'Umana Reier che adesso difende proprio con Ortler che va a stoppare. Johnson Odom spinge ancora Julian Stone, il fallo terminale da parte di Jones. Goss, due punti più tiro libero. Se c'erano dubbi sulla condizione fisica di Stone, qui li ha fuggati tutti. Manderà in lunetta gli avversari, ma intanto il pallone è nelle mani dell'Umana Reier. Con 2.42 da giocare il tiro da tre punti di Goss, vola Julian Stone, recupera il rimbalzo offensivo, poi ancora Goss, il tiro morbidissimo. Allora c'è questa sera Julian Stone. Sì, sì. Sia comunque di squadra per l'Umana Reier in tutta la partita. Adesso deve difendere con Benjamin Norton. Su Eric Williams lo contiene fino a un certo punto, poi però lo costringe all'errore. L'austriaco è corre dall'altra parte. Stone che lancia per Vigiano. Contropiede questa volta, perfetto. E due punti che riportano a più 7 l'Umana Reier. ...dicato da Peric, Metaworpis va via a Gerius Jackson, va appoggiare al tabellone, ma sbaglia il rimbalzo di Peric che corre, lancia per Julian Stone! Appoggia al tabellone, intercezione, dunque canestro valido per Julian Stone. Ha segnato appena 4 punti Julian Stone.